L'estate dei privati. Se non ci fossero loro, le città sarebbero molto più desolate di quanto non lo siano. Tempi andati, quelli dei lunghi cartelloni che si avviavano a giugno e si chiudevano a settembre inoltrato, costellati di concerti e rassegne teatrali. Solo il comune di Salerno sembra reggere. Anche in questo caso è vitale però il contributo dei privati, che organizzano gli spettacoli all'Arena del Mare il più delle volte a pagamento. Altrove i programmi si sono notevolmente assottigliati. Ad accendere la bella stagione nocerina è l'Ipersisa che nella nuova sede di Via Napoli propone una serie di eventi che combinano musiche e tradizioni culinarie. Si comincia il 20 luglio con Nando Mariano e la pasta e fagioli, poi il 25 ci sono gli Spaccapese con Gerardo Amarante e ancora gli Alfa Sound e tante altre esibizioni. Una serie di eventi che allieteranno i nocerini e non solo, in quanto il supermercato è un riferimento per l'intero agro. Stelle per l'estate nocerina mentre si attendono le iniziative promosse dall'amministrazione comunale. A Palazzo di Città si sta ancora studiando un programma per intrattenere quanti non andranno in ferie, ma luglio è inoltrato ed in giro non si vedono manifesti. Per ora c'è stata solo la manifestazione di interesse, così come è avvenuto la scorsa estate e a Natale, con quanti associazioni e privati che vogliono fare spettacoli i quali si sono autoproposti al Comune. Ora si attende però l'allestimento definitivo del programma. La parte del leone in questo periodo che non si accende la fanno però soprattutto le sagre. Numerosi comitati e le associazioni che organizzano eventi culinari, popolari, ritmati da bali liscio e latinoamericano. Per fortuna ci pensano loro ad allietare l'estate di chi non va in vacanza.